Yes, yes, yes. E' animata a casa del centro, quando non è bravissima, ma calco la luce, si viena a fare il calcio, da quello che siamo a casa. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. e' animata a casa del centro, quando non è bravo. E' animata a casa del centro, quando non è bravo. Grazie. 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 La rossa. La rossa. Abbiamo anche un po' di cd. Non ancora hanno stato inatteso del nostro volto. Quindi, o tvd. E quindi che cd ci sono, scusa? Ci sono i miei e i tuoi. Ah, ok. I miei e i tuoi. Allora, le nostre incredibili carriere soliste, noi che... Chi è la pausine a confronto e chi è... Non lo so, dimmi un... Con chi vuoi confrontarti tu come chitarrista. Ma che cazzo è la terra. Quindi i nostri cd... Beh, stavamo scherzando. Oddio, sono pausa. No, stavamo scherzando, ovviamente. Va bene, e... Sono piccoli problemi di cuore. Abbiamo finito! Nooo! Praticamente! Praticamente abbiamo quasi finito. Allora, se ci date... Un po' di carica... Da 1 a 10, sei più. Cioè, fa un po' cagare questa carica. Ve lo dico con affetto. Riproviamo! 1, 2, 3! 7 e mezzo. Troppo cazzo. Il mio secondo nome a casa era un piccoglione. Il motivo c'ha... 1, 2, 3! Grande camera! Grande camera! Grande camera! Che su Facebook diventiamo famosi io, te! Non fate cazzate! Non fate cazzate! La facciamo finta! Non fate cazzate! O riprendete col cellulare. Vai! Vai! Ti vieni e mi dici... Altega mi vuoi sposare. E io ti dico no! Cioè, totale! Non riprendete... Vai! Al momento c'è che... La Ferragni ci fa una pippa. Ciao! Ciao, ti voglio sposare! Bravo! Perché hai chiesto di merda? Scusa! Voglio giocchiarti... Non sai cosa riprendi! Dopo questo splendido momento, un momento ringraziamenti. Vi incantiamo questo splendido locale che propone un po' di musica dal vivo. Non un po', un bel po' di musica dal vivo. È sempre di qualità. Un grande applauso all'1.35 circa! Un altro grandissimo applauso a Manuela. A Manuela dell'agenzia in Sicilia è la nostra agenzia italiana per cui ci farò suonare per voi ancora una decina di show quest'anno. Un grande applauso alla gentile che ci fanno suonare! Soprattutto un grandissimo applauso a voi tutti che siete qua. Grazie mille per tornare a cittadini a Grappa, a Roma, a Indeggio. Insomma, organizzate un po' di corriere per Indeggio, per l'Azio, per Francia. Dillo, 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 dillo. Meniamocelo un po'. Suoneremo con Young Pace il 30 marzo, Aliella. Certo, e non con Paola Carendi alla batteria e forse o sfidiamo Young Pace su un paio di pezzi. No, scherzo. È vero, è successa questa cosa e siamo troppo felici. Dai, vediamo cosa ci riserverà il futuro. Un pezzo vostro! Un pezzo vostro! Io ho fatto il mio disco, Eliana ha il suo disco, ma tutte noi abbiamo altro oltre questa situazione. Questo è perché abbiamo voglia di... Scusate, sto rispondendo da quella parte. Perché avevamo voglia di divertirci con del fottuto rock'n'roll, però poi ognuna di noi ha la propria musica e il proprio corso. Che è importante! Grazie a tutti! 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 Grazie! Ci vediamo alla prossima! Grazie! Non lo so! Non lo so! Facciamola con loro la foto! No! questa è una bella domanda marito promesso sposo gentilmente già che sei lì a fare nulla potresti farci una foto no non io e te la faccio c'è la foto a noi no ma col nostro cellulare tanto è il mio numero siamo fidanzati è vero scusa grazie 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 va bene vi salutiamo con l'ultimo pezzo grazie ancora una volta davvero di cuore ma scusa poi già anche la paola beve diamo due coordinate social Eli aiutami facebook stranger kind of women si abbiamo un sito che è in costruzione www.underconstruction.com arriverà da qualche giorno questo sito ce lo stanno facendo a Dubai però potete seguirci sulla pagina non lo sapevi sulla pagina facebook www.facebook.com strange kind of women dopodiché siamo anche su instagram per chi di voi è instagram dopodiché dove potete vedere le nostre prove le nostre cavolate mensili però non posso dire quotidiane perché non ci vediamo mai ma mensili sì e dopodiché secondo me la cosa più bella dove vederci è sul palco bravi bravi sante parole bravi va bene vai ora per sfidare il nostro rocker italiano vi do fuoco vado di fuoco grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.